Musica Benvenuti alla resegna stampa di oggi martedì 18 agosto 2015 questo è il canale 17 di Fano TV che tutte le mattine in diretta alle 7.30 vi mostra i giornali con le pagine della provincia di Piesa Urbino le pagine in particolare di Fano, di Pesaro, della Vallata allora cominciamo dal santo del giorno, vediamolo subito oggi è Sant'Elena, madre di Costantino il sole è sorto alle 6.15 e tramonterà alle 20.09 oggi è una bella giornata di sole guardate che bella fotografia che ci mostra la nostra webcam sempre disponibile all'indirizzo occhialanotizia.it potete andarla a vedere in qualsiasi momento aggiornatissima sul nostro osservatorio meteorologico quello di Fano TV allora questa dicevo la fotografia la temperatura 20 gradi 20 gradi alle 7.30 del mattino oggi avremo cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso con attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde e un progressivo aumento della copertura nel pomeriggio avremo brevi rovescio temporali sui rilievi nelle ore più calde della giornata le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti sud-occidentali il mare sarà poco mosso per la giornata di domani mercoledì 19 agosto cielo nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite a partire dal pomeriggio guardate domani che giornata di precipitazioni con rovescio temporali diffusi localmente anche di forte intensità avremo temperature naturalmente in diminuzione nei valori massimi i venti moderati sud-occidentali in rotazione verso nord-ovest dal pomeriggio il mare sarà poco mosso e mosso invece dalla tarda mattinata per quanto riguarda la giornata di giovedì 20 invece avremo cielo irregolarmente nuvoloso al mattino in particolare lungo la fascia costiera con diminuzione della nuvolosità nella seconda parte della giornata quindi dal pomeriggio avremo anche residui isolati rovesci nella mattinata soprattutto nel Monte Feltro in diminuzione le temperature le minime mentre in lieve aumento sono le massime venti di brezza tesa settentrionale il mare sarà mosso, poco mosso dal pomeriggio il fine settimana che cosa ci prospetta la protezione civile delle marche? fine settimana ed inizio con possibile e probabile ripristino del regime anticiclonico e dunque giornate stabili e soleggiate ma è probabile quindi bisognerà vedere che cosa mettono gli aggiornamenti delle prossime ore allora apriamo adesso i giornali il Corriere Adriatico il Corriere Adriatico apre con i tagli e gli accorpamenti che verranno effettuati alla Camera di Commercio Drudi, il presidente e Schiavone direttore una giunta con i cinque presidenti provinciali guidata a rotazione da uno di loro i vertici dell'ente hanno chiesto un incontro urgente al presidente della regione Marche Ceriscioli si va verso Marche Nord e Marche Sud profumo di brodetto sotto i torricini andiamo ad Urbino Expo 2015 tre giorni dedicati alla celebre zuppa tra l'altro fanese con gli chef de Il Bello e la Bestia grandi sorprese alla tredicesima edizione del festival tra gli ospiti i grandi cuochi ma anche Moni Ovadia insomma il profumo di brodetto invaderà la data Expo di Urbino da Fano invece almeno un giorno con il tutto esaurito per gli operatori turistici buono il ferragosto ma da domenica sono iniziati i rientri dunque gli alberghi piano piano si vanno svuotando la breve parentesi di pioggia non ha modificato i programmi in spiaggia dunque balli e gavettoni successo anche per la tradizionale regatta organizzata dal club velico Geremia Viviani e il Corriere pubblica anche i vincitori per quanto riguarda la fiera di San Bartolomeo la fiera di Fano sono già stati assegnati i 245 posti per gli ambulanti a Sassonia la novità è quella che ci sarà anche una bancarella o delle bancarelle che verranno gestite direttamente dai bambini ai quali è noto ormai piace tantissimo fare il baratto mettere non tanto per guadagnare soldini ma insomma per barattare i loro oggetti con altri dunque importante il Corriere segnala un'importante citazione per un'osteria che si trova a Fano nel centro storico l'osteria della Peppa che è stata inserita nell'Accademia Italiana di Cucina sopra invece Duio Psico che è un gioco a quiz dal vivo è un'iniziativa molto bella tra l'altro che è bene sottolineare e bene ricordare perché è un gioco un gioco quiz che si svolgerà dal vivo è una singolare serata organizzata dall'ordine degli psicologi delle Marche a Lido che serve per conoscersi divertendosi dunque non solo stati d'ansia disturbi alimentari insonnia tossicodipendenze depressione malattie di questo genere la psicologia può indurre anche al sorriso e dunque c'è questa iniziativa che ha organizzato l'ordine per le ore 21 e 30 al Lido ed è un'iniziativa che appunto vi segnaliamo e che è sicuramente interessante andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico la pagina di Fano e della Valle del Cesano da San Costanzo malato ma il trasporto è a pagamento affetto da sclerosi multipla e cardiopatico per sottoporsi ad una visita a Villa Adria dovrà retribuire l'ambulanza sotto invece da Marotta questa è l'estate della svolta a partire dall'evento Enrico Ruggeri l'assessore già progetta la prossima stagione sempre da Marotta inaugurate nella chiesa di San Giuseppe le sette grandi opere di Patrizio Agrà e poi la staffetta da San Costanzo alla staffetta del Bianchello fa tappa all'azienda Bruscia adesso la pagina di Senigallia perché questa sera a Senigallia ci sono i fuochi d'artificio uno spettacolo che richiama sulla costa sulla spiaggia di Velluto tantissima gente a partire dalle 22 e 30 maxi isola pedonale per i fuochi d'artificio lo spettacolo al via alle 22 e 30 dal molo di Levante i primi provvedimenti scatteranno alle ore 18 e adesso l'altra pagina invece di Senigallia del Corriere la cronaca picchiati in strada feriti due vigili agente prende una manata per una multa un altro invece è stato colpito da un extra comunitario e adesso andiamo sulle pagine del messaggero il messaggero di Pesaro apre con il piano spiaggia i ristoratori si mobilitano domani c'è un'assemblea in comune promossa da Confcommercio contro la liberalizzazione della preparazione pasti negli stabilimenti i bagnini sul versante opposto dicono a noi questo progetto non dispiace lo esamineremo nel dettaglio nel mese di settembre poi Marche Multiservizi sempre da Pesaro rifiuti arrivano i sacchetti della differenziata Marche Multiservizi ammette ritardi ma rassicura consegnata ripartita la consegna ripartita novità per la raccolta degli scarti vegetali sempre dal messaggero lavoro c'è la ripresa i numeri però sono ancora bassi ma contratti migliori per i dirigenti Nucce e Carloni gli effetti del Job Act stanno spingendo la provincia fuori dalle sabbie mobili in calo il precariato aumentano le assunzioni stabili e diminuiscono anche i licenziamenti ma ancora ci sono tante criticità per quanto riguarda la situazione dell'alberghiero l'istituto alberghiero per gli esami si trasloca ma resta il problema delle lezioni scolastiche i locali sono inagibili le prove di riparazione quelle di settembre verranno dunque ospitate al campus dieci aule sono state individuate a Pesaro Pesaro Studi ne mancano ancora otto contatti anche con la diocesi di Pesaro Vittorio Sgarbi da Urbino Vittorio Sgarbi tutti in coda per il critico a Urbino oltre 200 persone tra turisti e curiosi si sono fatti guidare dal critico all'interno della mostra l'assessore alla rivoluzione ha vestito i panni del Cicerone entusiasmando i presenti nell'illustrazione dei quadri esposti la pagina di Fano del messaggero invece si occupa in primo piano dell'estate fanese un'estate un po' così così però per fortuna baciata anche dal bel tempo la stagione al giro di Boa Ferragostano positivi i primi bilanci si avverte però l'esigenza di una manifestazione di richiamo come per esempio a Senigallia è il Summer Jamboree Pezzolesi premiato per il pesce azzurro invece il premio internazionale il premio internazionale spiaggia di Velluto 2015 è stato attribuito a Senigallia al fanese Marco Pezzolesi amministratore del ristorante Sales Service al pesce azzurro Kendua Beach invece il sindaco emette di vieti ma non chiude poi sotto Carnevale niente bozzetti è lo strappo dei carristi i maestri chiedono di programmare subito attraverso un tavolo con ente carnevalesca fondazione e comune come garante apriamo adesso invece il resto del Carlino la cronaca Igli il delitto di Sant'Angelo invado Igli comprò il coltello due giorni prima del delitto Igli è l'assassino reo confesso di Ismaele Lulli invece questo è il suo compagno Mario Mema che adesso cerca un po' di smarcarsi l'obiettivo del complice ovviamente è quello di togliersi adesso dal ruolo di attivo collaboratore nell'omicidio e questo invece è il coltello che è stato ritrovato vicino al fiume e adesso dicevo Igli questa è la notizia comprò il coltello due giorni prima del delitto l'assassino lo barattò da un amico cedendo dell'ascis poi c'è un altro particolare che è quello dei guanti e anche qui insomma si cerca di capire soprattutto adesso si cerca di lavorare sul fatto della premeditazione Igli aveva già un coltello a cui teneva tanto tra l'altro che ha già detto che gli era stato regalato dal nonno era un ricordo del nonno e sul coltello addirittura aveva scritto il nome di Ambra la sua fidanzata perché dunque comprarne uno o due giorni prima quindi forse perché l'altro coltello lo voleva tenere lì sapendo che l'avrebbe poi dovuto buttare via avrebbe dovuto disfarsene insomma ci sono tutti questi elementi sui quali bisognerà fare luce sulla pagina di Fano invece oggi il primo compleanno senza Edo Edo è Edoardo Serafini questo bellissimo bambino che purtroppo è morto il 26 giugno scorso durante un incidente ricorderete è volato dal scooter con il papà finito sotto le ruote di un trattore di un mezzo agricolo in quella maledetta curva di via della selva tra Centinarola e Fenile ancora la cronaca dalla pagina di Fano del resto del carino presi di mira da un ubriaco parla il Daniele Volpi del caffè del teatro quello che si trova davanti al cinema Politeama danneggiato il caffè del teatro appena aperto presi di mira da un ubriaco dicevo il proprietario dice ha avvisato il 113 però questo uomo si è vendicato è tornato e ha spaccato tutto ha lanciato una sedia sfiorando dei bambini l'hanno portato via ma poco dopo era di nuovo libero carnevale carnevale ritorno al passato nessun nuovo carro proprio come 15 anni fa nel 2000 mentre il 31 agosto ci sarà il consiglio direttivo dell'ente carnevalesca per procedere a una trattativa privata mentre il 24 di agosto con i carristi che hanno risposto al bando e vogliono presentare la loro offerta ci sarà un appuntamento già fissato ma è interessante il punto di vista di Alberto Berardi che è uno storico già presidente dei carnevali d'Italia il quale dice il punto di forza del carnevale di Fano non sono i carri nonostante i risultati di un sondaggio commissionato quest'anno dalla carnevalesca a una società di Pesaro mettano in evidenza un altissimo certo gradimento del pubblico presente verso i giganti di cartapesta ma Berardi dice la nostra originalità non è appunto non sono i carri ma è il getto il getto di caramelle di dolciumi di dolci di qualità mentre i carri caratterizzano tanti altri carnevali che sono più avanti di noi però dal punto di vista anche meccanico con dei movimenti che sono a 360 gradi rispetto ai nostri 180 sui quali appunto c'è ancora molto da lavorare e molto da fare siamo quasi in chiusura la storia di quel pastore maremmano ricorderete che ha zannato il compagno della padrona ebbene ieri la notizia che probabilmente questo cane verrà abbattuto adesso si cerca dopo questo episodio di salvare il cane il canile potrebbe rieducarlo la Melampo che è un'associazione che si occupa di animali dice spero che nessuno gli faccia l'iniezione però insomma adesso la sua vita è in bilico il precedente Pier Santi che è il signore appunto che è stato morso dal cane Pier Santi era già stato morso anni fa da questo gori il cane le guardie ecozofile erano andate a casa sua e gli avevano raccomandato di tenersi alla larga mentre parla un esperto un educatore cinofilo Raffaele Serafini che dice il Maremmano è un cane da pastore riconosce un solo padrone gli altri sono per lui pecore da gestire l'ultima pagina è quella di Urbino dove le fotografie ci mostrano alcuni momenti tra cui il trofeo in mano ai vincitori del gioco della Ita la sfida della Ita festa del Duca successo da grandi numeri finale con l'applauditissima sfida della Ita e i fuochi d'artificio rinascimentali ed è tutto per questa edizione di Occhio ai giornali edizione che torna domani mattina puntuale alle 7.30 e che potrete rivedere in qualsiasi momento sul nostro portale internet occhioalanotizia.it stasera alle 20.30 invece c'è il telegiornale Occhio alla Notizia per le vostre segnalazioni per noi sempre importanti ricordate che c'è il numero 338 4968 250 anche con Whatsapp buona giornata a tutti